eccoci qua a stradipante richiesta al box break della seconda mazza che mi è arrivata la settimana scorsa come richiesto espressamente da web vi faccio vedere perché effettivamente non era ben chiaro chi fosse a presiedere all'ultima apertura marco infatti pensavo se eric davis effettivamente siamo molto simili però ero io con una maglietta di eric davis oggi la maglietta è un'altra e vediamo un pochino cosa c'è qua dentro questo è un giocatore in major league dunque non minor league come ronaldo hernandez la volta scorsa procediamo subito all'estrazione del pezzo di legno vediamo un po che c'è allora qua abbiamo un siamo a marze chiara meno qui e abbiamo un bel taping di lizard skin dunque pelle di lucertola però stiano tranquilli gli animalisti dunque anche Gidio stai tranquillo non hanno scuoiato lucertole vere ma è una sostanza chimica sintetica che è praticamente quello che usano ormai tutti i major league che intendono mettersi il taping alla loro mazza usano questa questo lizard skin che effettivamente confortevole anche al tatto la mazza è rotta qui si vede il crack e qui vediamo che c'è un bel po di pintar ed è veramente ancora appiccicaticcio nonostante la mazza sia del 2018 mi è già capitato di avere alcune mazze dove l'appiccicaticcio del pintar dura un bel po di tempo poi soprattutto si d'estate si acutizza il fenomeno devo dire col caldo allora la mazza è una mazza tutta di questo colore ed è una victus mazza victus che è la da una statistica fatta nel 2019 è la seconda mazza più utilizzata nelle major league con una fette di mercato del 18 19 per cento è una mazza piuttosto recente negli ultimi anni è venuto fuori il marchio victus però è stato poi acquistato dal marchio acquistato dalla marucci marucci che è la mazza più utilizzata del brand più utilizzato nei majors con un bel 28 29 per cento e tanto per capirci quando guardate le partite la mazza più utilizzata in maggior lega è questa quando vedete il marchio la marucci e la victus è la seconda seguono poi il marchio storico da louis slugger la old hickory la sam la chandler rowlings tucci e così via poi dovetail bass eccetera eccetera allora andiamo un po a vedere chi è questa mazza vediamo un po di game usage vedete diverse macchie in fatto con la pallena la mazza che ha su un bel po di di utilizzo è un giocatore venezuelano che insomma per i miei amici tifosi dei cubs è un giocatore che hanno incontrato anche ieri sera un po scarso successo la mazza di jesus aguilar la mazza del 2018 utilizzata quando jesus giocava nei milwaukee in cascata la marucci nei milwaukee brewers vedete qua il numero 24 con lo sticker dei brewers facciamo una gran bella mazza questa volevo già prendere quando ero stato a milwaukee a vedere la partita nello store c'è una bellissima mazza di jesus però alla fine presi una domingo santana ripromettendomi di di comprarla prima o poi eccoci qui ragazzi io vi saluto e ci ci sentiamo alla alla prossima apertura ciao a tutti